Gli open sono finiti ma C per TV continua, oggi è il 25 marzo 2019, una nuova settimana e la iniziamo subito costruendo un heavy set di 3 back squat dove faremo una pausa in bottom position di almeno 5 secondi. A seguire una rub 14 minuti, 3 kettlebell swing, 3 back squat, 3 burpees, 6 kettlebell swing, 6 back squat, 6 burpees, 9 kettlebell swing, 9 back squat, 9 burpees, pesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco. Per oggi è tutto, ci vediamo domani per un'altra puntata insieme, un altro VOD insieme su C per TV. Buon divertimento!